E guarda che l'equipe che comunque abbiamo noi, ti posso dire che a livello Europa non la trovi. Non la trovi perché abbiamo gente che è giovane, esperienza e trovare gente giovane con tanta esperienza già quello è molto difficile. E soprattutto siamo molto affiatati come gruppo. O il venerdì guarda che andare a calcio insieme, la domenica arrostire insieme con le famiglie, fare tutte le vacanze insieme sempre. Ma quando mai trovi un team così? Quello è il segreto. Ora io sto prendendo tutti quelli che sono gli articoli di giornale che mi hanno portato, questi sono gli articoli di giornale e li mettiamo sulla parete. E poi abbiamo qua, questo non l'avevi visto, il videogioco di Dr. Palmas, no scherzo, è il DVD, il film. Poi deve uscire anche l'altro di DVD e lo faremo anche quello, lo faremo per venire a tutti i pazienti. Dovevamo andare a marzo a Milano a fare l'evento e ora dobbiamo, io penso che lo posticiperemo a settembre quando in Italia faranno rifare gli eventi. Queste sono le postazioni invece di telemedicina dove inviamo e riceviamo dati da New York. Possiamo andare a fare le prove nella bocca del paziente di quelli che sono i denti che dobbiamo montare. Vieni, te li faccio vedere. Avvengono previsualizzati quelli che sono i progetti che dobbiamo andare a posizionare nella bocca del paziente. È un lavoro molto, anche se non sembra, sembra che giochi col computer, però stare otto ore al giorno seduto può essere un problema soprattutto per la schiena. Noi ci teniamo ai nostri tecnici, li abbiamo forniti, dotati di dispositivi anche loro di protezione dal punto di vista lavorativo per la loro salute. Questa è una di quelle cose che poi fanno la qualità del trattamento che viene erogato. Altra zona da non passare mai, l'area sterilizzazione. Questa è la chiave soprattutto poi di questi tempi per fornire delle terapie prive di rischi. Pag. Ma qualità delle terapie prive di rischi. Alla prossima��. Ci sono domani. Pag. Adesso. Pag.